I conti non tornano, le mediazioni falliscono, le primarie si avvicinano, salta persino l'assemblea regionale del PD prevista per la mattinata odierna per proseguire le trattative con i candidati al momento. Portate avanti senza alcun risultato. Gli emissari del Premier non riescono in nessun modo a convincere Mario Oliverio a fare un passo indietro. Lo stesso Gianluca Callipo a questo punto intende proseguire lungo un percorso che altri hanno tracciato e lui di buon grado ha accettato. Luca Lotti ha provato vanamente a convincere il presidente della provincia di Cosenza nel weekend ad esistere. La risposta è stata chiara, come sempre, si vogliono far saltare le primarie, ha detto Oliverio, per timore che sia io a vincerle. Ma chi non sa fare i compiti a casa ha bisogno di un sostegno, una sorta di commissariamento a distanza. La palla passa allora nelle mani di Matteo Renzi, che la Calabria non intende assolutamente perderla. E il capo del governo sarebbe pronto in questo senso a vestire, dopo quelli del temporeggiatore, i panni del condottiero. Anche perché quelli inviati negli anni dal PD alla punta dello stivale, Renziani compresi, non è che abbiano saputo riaggregare più di tanto. L'asso nella manica potrebbe essere alla fine proprio il sindaco di Pizzo, uomo di fiducia di Matteo Renzi ed è figio del nuovo che avanza. Ma l'impresa si presenta in una regione allo sbando non senza conseguenze. Oliverio non sembra intenzionato ad accettare Contentini e almeno lui rimane fermo al documento sottoscritto con Magorno e Serracchiani. Documento che chiarisce come le primarie dovranno essere celebrate il 7 o il 14 settembre. Insomma, tra meno di due settimane al massimo. Tempi strettissimi quindi per il premier per tirare fuori quel papanero che tutti attendono, smettendo inutili fiumi d'inchiostro versati per tutta l'estate.